Hanno portato in corsia gioia, sorrisi, sostegno, hanno portato avanti i progetti per rendere l'ospedale e la pediatria più accoglienti e più allegri. Hanno dato sostegno alle mamme e dai loro bambini ricoverati. Tutto questo hanno fatto l'ospedale di Esine, le volontarie del Labio, l'associazione bambini in ospedale, oltre 100 quelle che si sono alternate. Ed oggi l'associazione compie 18 anni di presenza sul territorio e l'ha voluta festeggiare proprio in ospedale a Esine, dove in questi anni le volontarie hanno passato tantissime ore. 30.000 ore a fianco dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie. Sono veramente contenta. Una giornata importante, lo ha sottolineato anche il primario della pediatria, che dice che Labio è stato fondamentale per l'andamento della sua unità operativa. In questi anni sono state portate a termine numerosissime iniziative che sono servite per riqualificare il reparto e per renderlo soprattutto a misura di bambino. Oltre che si è cercato di creare delle situazioni di comfort anche per le mamme che devono fermarsi ed assistere il loro figlio. L'acquisto di paggetti dove le madri possono riposare, alla fornitura di televisori con il digitale terrestre, in modo che i bambini che sono costretti a restare a letto possano vedere cartoni. Una cucina creata a disposizione delle mamme e altre iniziative molto importanti. Alla festa c'erano le volontarie che ha operato in passato, i sostenitori, i ragazzi del liceo artistico e che hanno abbellito le stanze di degenza. Per ricordare questi 18 anni sono stati realizzati anche alcuni pannelli. Dove andiamo a raccontare un po' tutti i nostri progetti e tutto quello che abbiamo fatto per i bambini. È un momento conviviale di gioia anche per ritrovarsi e brindare insomma a questo traguardo. L'Abbio ovviamente continua nel suo lavoro, proprio in questi giorni hanno cominciato ad operare le nuove volontarie che hanno frequentato il corso 2017. Ventina di volontarie che adesso stanno facendo il periodo di tirocinio e che poi tra poco, completato il tirocinio, entreranno tutti gli effetti a far parte del mondo abio per cui a operare indipendenti all'interno del reparto.